Gli sposi Michel Bertolini e Ignazio Boschetto, uno dei tre tenori di Il Volo, erano veramente splendidi alle nozze del loro matrimonio. L'abito della sposa è stato realizzato per lei da Tosca Spose, la proprietaria e stilista dell'atelier, pensate un po', e la moglie di Paolo Cevoli, con cui ha partecipato a Pechino Express ed è stata lei a realizzare l'abito. L'abito da sposa formava uno scollo a cuore e poi si apriva davanti con una meravigliosa gonna in tulle e una coroncina argentata con motivi a fiori. Tra i capelli, lo sposo Ignazio era raggiante, con smoking, insomma uno splendido matrimonio pieno di sentimenti, pieno di musica e soprattutto... ... ... ... Grazie per la visione!